La crisi epilettica, può succedere che uno possa avere, un giocatore possa avere la crisi epilettica, ma gli sei da troma cranico, giusto? Che cosa fai? Lo lascio stare, non lo blocco perché è la cosa più particolosa che esista, bloccare un epilettico. Giusto, non lo, non è che lo blocco, lo lascio sfogare perché non mi è già successo. E' giusto, e anche se dovesse fuoriuscire sangue con la bava, non è importante, perché comunque durante le incontrazioni fuori esce quello. Sì, sì, è successo fuori dal campo, da un spettatore. Però vedi, per esempio nel troma cranico potresti averla, la crisi epilettica, in seguito del troma cranico in campo successivamente puoi avere la crisi epilettica, hai capito? Sì, è vero. Per dire, tu lo sai bene, probabilmente qualcuno non sapeva, vi lasciarlo lì, lo lasci lì sfogare, è importante sapere dove non picchiare la testa, devi sapere... Proteggerlo, 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 certo. Piuttosto metto un riparo sotto la testa, in modo che anche lui se ha le scosse e non ha contatto diretto con il campo, è quello. Se avete domande fatemi. Io vorrei sdramatizzare un attimino. No, 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 nel senso, sono le case più pericolosi. Eh, lo sono, eh, lo sono. Però, ecco, il, anche perché, cioè, il dottore può raccontarci tutti i casi che arrivano in un pronto soccorso, perché lui, essendo il principale responsabile del pronto soccorso, gli arriva di tutto. Quindi non solo quello che succede nei campi di calcio. Il calcio, e il campi di calcio, lì vive, li vede, nelle partite qua, quando è con il tuo figlio, e vedi a una frequenza quasi quotidiana. Però, tornando magari su quello che è molto più semplice, e anche sembra magari di meno importanza, perché i traumi sui bambini più piccoli, e noi qui qua, come attività di vasi, ne abbiamo tantissimi, no, sono molto più lievi. Non si arrivano, normalmente, a questi casi più importanti. Però anche quelli hanno la loro importanza, perché oggi, oltretutto, noi come dirigenti e allenatori, siamo sottoposti, fissi, da sempre, al controllo, non solo della società, ma dai genitori. Per cui, qualsiasi manovra sbagliata facciamo, poi, non dico che possiamo essere denunciati, perché ci sono anche cose di questo genere, però, intervenire in una maniera sbagliata, o non intervenire, su una semplice ferita, perché qua voglio portarvi magari la sbucciatura, la spellata, piuttosto che il taglio, è una cosa che succede nei bambini. lì dobbiamo sapere esattamente cosa fare. Un'altra cosa che potremmo sapere anche sulle allergie. Aspetta un secondo, per finirlo. Scusami. Anche riguardo il vestiario, quello che hanno su, cosa dobbiamo fare o non fare, anche semplicemente nel togliere un calzettone, piuttosto che una scarpa, o un indumento, prima, poi, di intervenire, di fare... Diteci cosa facciamo, su una ferita. Ma, in caso di una ferita, vabbè, di solito, di solito le ferite sono ferite superficiane, ok, interessano la cute, le sottocute. Viene difficile pensare, io sinceramente, fino adesso, penso di averne viste due, perché tra l'altro, nel cremasco, giocano tutti a calcio, e tante delle società vengono da noi per mille motivi, possono interessare quelle profonde nella struttura muscolare. Situazioni di perdite emorragiche, di sanguinamenti importanti, per fortuna, non ce ne sono stati, se non nelle fratture esposte, alcune volte, dove il sanguinamento è importante, ma, in quel caso, dobbiamo soltanto, come si diceva prima, fare una compressione, un vendaggio compressivo. Se noi vogliamo essere sottili, perché anche il trattamento della ferita è un trattamento, comunque, di tutto rispetto, perché c'è il rischio che si possa infettare, che possa dare problemi, che si possa formare l'ascesso, ebbene irrigarla con l'acqua corrente. L'acqua corrente, o attraverso le borracce che noi abbiamo, continuiamo a lavare, soprattutto togliamo i corpi estranei, i detriti che vi possono rimanere all'interno. Chi ne è capace, può con una garzina, dall'interno verso l'esterno, eventualmente togliere quei piccoli detriti superficiali, non quelli profondi, dai più piccoli ai più grandi, soprattutto quelli più grandi, perché possono, in qualche modo, tamponare naturalmente un eventuale sanguinamento, perché c'è il rischio che io vado a togliere un sasso sotto, probabilmente quel sasso aveva decupitato sull'arteria, e in quel caso, al momento stesso che tolgo il sasso, incomincia a sanguinare, quindi in quel caso dico, porca miseria, potevo anche evitare. Quindi, quelli superficiali posso anche rimuoverli, ma verranno via con la continua irrigazione. Posso utilizzare eventualmente un sapone neutro, attorno alla ferita, e non sulla ferita, per pulire il tessuto intorno, che potrebbe essere potenzialmente contaminante, e poi, se ho a disposizione un disinfettante tipo l'Oiodio, a base iodata, tipo il betadine, che è quello che hanno praticamente tutti, posso utilizzarlo. Però, come diceva giustamente Giuliano, ecco, ricordiamoci una cosa, che i primi potenzialmente contaminanti siamo noi, quindi mettiamoci guanti e soprattutto assicuriamoci che l'infortunato non sia allergico al, come si chiama, mi sta venendo al guanto, all'attice, che non sia allergico all'attice, perché in quel caso, allora, possiamo evitare di utilizzarlo, come anche non sia allergico allo iodio, in quel caso non possiamo usarlo al betadine, conviene usare, va bene l'acqua ossigenata, anche se è molto irritante, però, ha un elevato potere germicida, quindi contro virus, batteri, spore e fugghi, quindi, essendo, anche, avendo un'alta solubilità, va in profondità, agevolmente, e disinfetta molto bene la zona. Metto delle garze stelle di sopra, una penta, e lo faccio vedere, poi, presso un ospedale di bifoggio. E va bene, per esempio, da queste cose,